il bonsai e di risparmio due cose che sembrerebbe vadano quasi di pari passo per una persona che inizia a cimentarsi in quest'arte una terra che sia quasi quella di qualità un concime che sia quasi quello di qualità una piantina che sia quasi adatta e degli attrezzi che siano quasi quelli giusti i corsi dimentichiamoceli il discorso qual è che uno quando si appassiona a qualche cosa che ne so alla moto uno prima vuole imparare andare in moto e dopo compra la moto un attratto che ne so dagli sci prima si informa fa un corso magari noleggia gli sci e dopo si mette a sciare nel bonsai no uno ci prova e il discorso cosa succede che poi le piante muoiono soffrono io non sono portato no non è che non sei portato è che è investito malamente o non hai voluto investire sei stato tirchio e non è il destino se la pianta ti muore è colpa tua sei stato tu stesso a far secco delle piante allora pensaci perché magari che ne so un corso potrebbe aiutarti qualcuno che ti guidi associarti a andare da un professionista andare in un club e pensaci perché comunque sono tutte cose che ti portano a un successo magari col club ti confronti con un professionista migliori professionista ti fa capire quali sono le tue potenzialità su quali piante orientarti cosa puoi fare ti insegna perché anche quello quando paghi un professionista vai e puoi pretendere dell'insegnamento non è che ti viene dato così in internet nonostante tutti i messaggi privati che io ricevo attenzione quello non è insegnamento quella lì è una cortesia che faccio ma non crediate che io vi stia insegnando in quel momento vi sto aiutando vi sto stimolando ma quello non è insegnamento se volete imparare a fare bonsai e se veramente vi piace il bonsai provate la strada giusta vedrete la differenza credetemi